ciao a tutti bentornati nel mio garage bentornati dopo un po che non facevo video oggi siamo qui di nuovo volevo fare un piccolo veloce unboxing di questi tre strumenti di misura della parkside che ne ho già acquistato in passato altri strumenti di misura e vi devo confessare che mi sono trovato molto bene per il prezzo che hanno acquistati al lidl veramente per una dozzina di euro ognuno veramente vale la pena acquistarli e tenerli nel proprio laboratorio nel proprio garage stiamo parlando di un multimetro con pinza amperometrica un multimetro a penna che è molto pratico quando si devono fare delle misure e non sai in che modo mettere il tester da parte dove appoggiarlo via dicendo per fare delle misurazioni veloci dei rilevi veloci questo va molto molto bene perché lo strumento e puntale resti resta su una mano e l'altra giustamente sull'altra con due mani riesce a fare tutto ok e l'altro la pistola termica questa qua che è molto molto simpatica adesso vediamo seguiranno sicuramente dei test questo dovrebbe avere anche delle impostazioni che mi cambia la lettura del display a seconda dei livelli di temperatura poi doveva avere anche la zona di lettura sempre da dal del laser del meno laser così che diciamo che potrebbe anche essere una cosa una novità abbastanza utile quando siano a che fare delle superfici più o meno larghe partiamo subito vediamo qui mettiamo tutti voi in prima fila partiamo dal multimetro con la pinza amperometrica questo molto bello vediamo subito qui buono quando neanche accennato ad aprire abbiamo subito batterie il suo bel libretto di istruzioni manualino in tutte le lingue possibili perfetto qua il nostro bel tester sembra molto carino veramente vedremo come funziona faremo un bel test di funzionamento sicuramente prove funzionamento e è un bel test della pinza e come viene utilizzata batterie tutto quanto molto bella veramente molto contenuta e dimensioni molto molto simpatiche doppio filo perfetto diamo da parte questo il multimetro leggermente le quali le caratteristiche non lo abbiamo anche frequenzimetro tensione continua e alternata lettura della corrente alternata nella pinza purtroppo qui non abbiamo la lettura della corrente continua sulla pinza amperometrica per quello ho un'altra pinza che farò un bel video al riguardo diciamo che per avere la lettura di correnti con la pinza amperometrica in corrente alternata una pinza costa veramente poco in corrente continua serve una una tecnologia molto molto più complessa per quello costano anche parecchio di più qua vedremo vedremo anche dalle istruzioni tutte le funzioni che possono esserci su questa piccola pinza vediamo il multimetro penna nel multimetro penna qui sempre tipiche batterie un solo puntale in questo caso perché l'altro è giustamente legato alla pinza stessa al multimetro stesso questo è molto contenuto però è tanto più lungo per quello si vedremo come come si comporta nel video che faremo del test di questa di questo strumento anche dei delle protezioni sui puntali mili ampere micro ampere omnetro volt volt in continua alternata e altre funzioni che le vedremo bene nel video di test e l'ultimo va bene avremo visto qui la livelli attaccount forzioni che vale come per tutti tutte le caratteristiche nel loro nel caratteristiche tecniche e via dicendo è le vedremo nel suo test nel suo video di test qui abbiamo la pistola termica che l'ho già aperta anche provata devo dire che è abbastanza precisa di mette istruzioni altre cose non ci sono e questa è la nostra pistola questo abbiamo già inserito le batterie si vede la zona di lettura come ho accennato prima in più dovrebbe avere delle variazioni cromatiche in base ai livelli di lettura che vengono eseguiti questo magari lo vediamo nel suo video di test che devo ancora proprio leggere in profondità però veramente si comporta molto molto bene l'ho confrontata anche con altri strumenti di precisione e diciamo che la lettura è abbastanza accurata questo è l'unboxing per questi tre strumenti di misura e niente se vi è piaciuto vi invito a stare sintonizzati sul canale e per vedere i test su questi su questi strumenti e niente mettete un like iscrivetevi che non costa nulla e vi saluto da tutti quanti un salutone ragazzi mi raccomando state sintonizzati e ci vediamo al prossimo video grazie